Tutto pronto per un nuovo weekend di festa per la 485esima edizione del Carnevale di Fogliano della Echiana che continua a far segnare il record di presenze. Domenica 18 febbraio la quarta uscita dei corsi mascherati nel borgo della Val di Chiana dopo le prime domeniche in cui la giuria ha votato prima il carro più bello poi la mascherata migliore. Il verdetto è già scritto e deciso ma resterà top secret chiuso in cassaforte sino all'ultima domenica di carnevale in programma il prossimo 25 febbraio quando verrà data lettura del testamento di Reggio Condo che svelerà il vincitore tra i quattro massodontici carri allegorici realizzati da altrettanti cantieri. Sempre domenica 18 febbraio ultima uscita per il carnevale dei bambini di Rigutino che recupera l'appuntamento di domenica scorsa annullato a causa mal tempo. Dalle 15 in poi nella frazione alle porte di Arezzo sfilate di carri allegorici musica spettacoli ed ovviamente coriandoli.